Siamo qui con Fausto Piga, i fratelli d'Italia, consigliere regionale. Lei ha parlato oggi di una proposta di legge sulle politiche giovanili in Sardegna. Facciamo un attimo il punto su una legge di sistema sulle politiche giovanili. Quali sono i principali assi secondo lei che dovrebbe raccogliere questa legge? Ma guardi, innanzitutto credo che debba cambiare l'approccio della politica verso il mondo giovanile. Partire con una legge che abbia come obiettivo quello appunto di assistere le nuove generazioni proprio in un percorso di vita. Quindi scuola, lavoro, formazione, casa, famiglia. La mia idea di legge nella politica giovanile è quello proprio di partire da un coordinamento delle pianificazioni delle politiche regionali e dare ovviamente un ruolo centrale alle stesse generazioni, alle associazioni che si occupano di politica giovanile, a tutti i portatori di interesse, fare sistema anche con gli enti locali, con le province. Cercare appunto di creare un'unità di intenti verso un tema fondamentale che rappresenta, come dicevo prima, un po' la start-up della vita, il periodo giovanile. Importante è dare anche un ruolo più positivo alle stesse generazioni per quanto riguarda le loro tematiche di competenza e cercare di stimolare anche un loro impegno civile e politico. Ovviamente le problematiche della Sardegna le conosciamo molto, spettamente, dispersione scolastica, mobilità, lavoro. Questi sono gli aspetti principali, gli aspetti più critici e ovviamente i giovani lì dentro dovranno mettere anche loro parola per contribuire a una risoluzione più coordinata di queste problematiche. Facendo un attimo invece il punto sui tempi che ci separano dalla promulgazione di questa famosa legge in futuro, facendo un attimo un calcolo, dalla presentazione del progetto di legge nella commissione, alla discussione in commissione, alla presentazione in consiglio per la votazione, quali tempi possiamo aspettarci? Io sono consigliere regionale da 70 giorni, mi sono messo subito lavoro in questa tematica, adesso siamo a livelli embrionali e soprattutto adesso deve esserci un momento anche di ascolto, di confronto con gli stessi giovani, con le stesse associazioni e con tutte le forze politiche che vogliono dare il loro contributo. Io credo che nel giro di due mesi possiamo essere in condizioni di presentare la proposta che poi sarà così dibattuta in commissione. Mi auguro nel giro di un anno di riuscire ad arrivare all'iter conclusivo, ma soprattutto cercando di dare spazio alla fase di ascolto, perché fare una legge possiamo metterci anche relativamente poco. Il problema è che questa legge deve partire dal basso e deve attraversare quella fase di ascolto dei portatori effettivamente di interesse, perché così facendo rischiamo di fare una legge che può piacere al politico, ma la legge deve piacere ai beneficiari, ai fruitori. Grazie.